ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e oggi siamo in garage in garage per parlare come letto dal titolo di come poter avere energia elettrica per sopravvivere in caso di guerra ciò io vi sto parlando di piccoli ok generatori per poter avere sempre un po di energia elettrica e in ucraina tantissimi sono rimasti con zero energia elettrica non possono ricaricare neanche lo smartphone ragazzi qui non stiamo parlando di energia elettrica per mangiare perché un piano cottura induzione che funziona con elettricità non lo potrai mai andare ad alimentare in un caso di guerra in un caso in cui c'è un blackout generale perché ragazzi quelli hanno altissimi assorbimenti e vogliono tantissima energia nel caso del cibo si accende un fuoco e si mangia quel che si può ragazzi la guerra che in questi giorni c'è tra ucraina e russia ci sta facendo tanta paura tantissima paura stiamo vedendo immagini non belle di anche come i popoli il popolo per esempio ucraino sta reagendo a questo a questa guerriglia il mio discorso però ragazzi sarà concentrato su una guerra face to face non una guerra atomica perché ragazzi guerra atomica all'italia tre bombe una al centro una al nord una al sud e nel giro di un quarto d'ora non c'è più nessuno ok non è questo il caso di cui parliamo oggi oggi parliamo di una guerra tipo ok quella che c'è in questi giorni in queste settimane purtroppo ok russia militari fucili bombe carri armati aerei razzi missili ok perfetto se l'italia per qualsiasi motivazione entrasse davvero ragazzi davvero in guerra non è davvero una bella non è una bella situazione ok va bene già questo lo sappiamo però noi in questo video dobbiamo parlare dell'energia elettrica perché se tu in prima persona non sei al fronte a combattere sarai dove a casa tua a pro del proteggerti al meglio possibile la prima cosa che in guerra ok si va a distruggere cos'è l'energia elettrica ragazzi come abbiamo visto anche tra russia e ucraina le centrali elettriche sono state le prime ad essere abbattute perché così da lasciare ok la nazione senza energia elettrica senza energia elettrica vuol dire niente computer perciò per il controllo la gestione anche degli armamenti della guerra stessa ecco e togli togli l'energia elettrica togli riscaldamenti togli la vita ragazzi togli la luce togli tutto perfetto ora se l'italia entrasse in guerra noi purtroppo non possiamo fare nulla nel senso che non possiamo dire alla nazione che ci attacca no aspetta non toccare l'energia elettrica perché loro se ne infischierebbero bene perciò noi ragazzi dobbiamo agire sul nostro circondario cosa serve in questo caso cosa serve ragazzi se non c'è energia nell'impianto elettrico nella nella strada dobbiamo avere energia elettrica almeno per poter sopravvivere allora cosa si potrebbe andare utilizzare se manca l'energia elettrica cosa serve batterie servono ragazzi batterie per accumularci energia elettrica e poterla razionalizzare ed utilizzare giornalmente meglio ancora ragazzi se riusciamo a produrci energia elettrica giornalmente ricaricare le batterie tutti i giorni ed avere quei 100 200 300 watt di potenza sempre disponibile per tutta la giornata le cose da poter utilizzare ragazzi io qui ho qualcosa iniziamo da questo questa ragazzi è una lampada lampada a batteria eccolo qui faretto a batteria con tasto sul retro ricarica usb una due tre modalità rosso rosso lampeggiante che fa s o s cioè in codice morse o spegne questa si ricarica tramite usb eccola qui ci sono tante lampade simili in commercio utili ragazzi hanno una buona autonomia anche se dobbiamo razionalizzarci perciò non utilizzarla al massimo della potenza così da avere una durata più lunga perciò questa ottima si ricarica con la usb questo ragazzi è un da esterno 20 watt però ragazzi 230 volt questo è tutto ciò che funziona 230 volt non ci sarà semplicissimo da utilizzare perciò in questo momento lo scartiamo poi abbiamo questi questo ragazzi cos'è è un power bank con pannelli solari fotovoltaici grazie a questo ragazzi messo al sole tu avrai sempre energia elettrica a 5 volt dentro la batteria tipo ora in questo momento con tutte le lampade che io ho acceso qui nella stanza i led laterali mi segnalano appunto in fase di ricarica appunto perché uno due tre quattro pannelli solari fotovoltaici stanno convertendo la luce delle lampade in energia elettrica che mi ricaricherà il mio power bank anche una torcia si accende da qui torcia led tecnologia sempre led ragazzi e questa è un'altra cosa molto ma molto importante che tutti dobbiamo avere a casa nostra perché lo smartphone come lo andremo a ricaricare se non c'è energia elettrica come ricarichi lo smartphone almeno uno ma anche due ma anche tre di questi ci vogliono di giorno al sole perché ok c'è la guerra ok se non vieni bombardato tu in prima persona ma hai la luce hai la hai la possibilità di metterlo in balcone in terrazza ok perciò con questo puoi alimentare quasi tutti gli apparati tecnologici funzionanti a bassa tensione perciò power bank molto utili ancora meglio ragazzi se sono power bank di capacità più grande perché ce ne sono sotto in descrizione ti lascio comunque tutti i link guarda questa ragazzi questa è una mega batteria litio customizzata ovviamente non è completamente assemblata l'ho solo posizionata tutte le celle li ho posizionate questa in progetto doveva essere una batteria da 48 volt per un monopattino elettrico però ragazzi avendo a disposizione queste celle è un carica batteria anche solare tu potrai ricaricare sia la singola cella ragazzi che tutte le celle in blocco andando a costruire un mega power bank da lì potrai alimentare quasi tutti i tuoi carichi importanti abbiamo detto il computer lo smartphone un piccolo frigo ovviamente ragazzi parliamo di un frigo piccolo che funziona a 12 volt perché se poi andiamo anche a mettere cosa molto importante che dovremmo avere tutti è un piccolo impianto fotovoltaico ma anche due pannellini 12 volt con quelli più un regolatore di carica piccolino è una batteria di automobile così risparmiamo al massimo noi abbiamo un sistema più potente ok dove poter andare a collegare un inverter su quell'inverter possiamo andare ragazzi a cablare anche per esempio un piccolo frigorifero in caso di guerra ragazzi dobbiamo poterci difendere ma non solo fisicamente con i fucili difendere anche per la sopravvivenza ok perciò tutti dovremmo avere queste cose tutti pannelli solari fotovoltaici anche a 12 volt anche quelli piccoli non fa niente l'importante è che lo smartphone è sempre disponibile sempre carico in caso di necessità una telefonata un qualcosa ci sono i presidi medici elettronici per esempio per misurare il diabete per fare l'insulina tante cose molto molto interessanti oggi funzionano a bassa tensione 5 volt tutto questo alimentabile da usb perciò da power bank perciò il power bank esiste anche a 230 volt che dentro include anche un inverter ti lascio sotto in descrizione anche questi link acquistando uno di quello comprando anche gli annessi pannelli solari avrete ragazzi energia elettrica tutti i giorni ok perciò occhio mi raccomando non ti fare trovare in preparato ragazzi perché arrivare in preparato con una guerra alle porte vuol dire non avere più nulla più nulla ciao e al prossimo video